Musica Benvenuti al TG10, oggi in apertura del telegiornale abbiamo la pagina politica, ci occupiamo in particolar modo delle critiche che giungono dal gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle all'indirizzo della giunta pentastellata guidata dal sindaco Domenico Messinese In aula consigliare a Gela il clima non è affatto sereno, anzi si respira aria pesante, le fibrillazioni sono all'ordine del giorno c'è chi giustamente protesta perché c'è il rischio concreto di perdere il proprio posto di lavoro ci riferiamo agli operai dell'indotto, dello stabilimento Eni, ai lavoratori della Tecra protestano anche chi ha occupato per anni abusivamente gli alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari destinatari degli sfratti a seguito di una sentenza del Tribunale e poi ci sono anche gli studenti e docenti che dicono no alla riforma Renzi e le mamme degli alunni che dicono no al dimensionamento scolastico e l'elenco continua con le lavoratrici della riflessione scolastica e con chi si occupa del trasporto dei disabili un vero e proprio calderone un giorno sì e l'altro pure c'è una protesta dinanzi al Comune che poi prosegue anche dentro l'aula dove si svolge il Consiglio Comunale ma non soltanto le proteste relaventele di chi dall'amministrazione vuole una mano d'aiuto concreta, immediata ci sono anche le bacchettate che giungono direttamente dagli scranni occupati da coloro i quali sono legati al Movimento 5 Stelle ci riferiamo al gruppo consigliare formato da Virginia Farruggia, Angelo Amato, Enzo Giudice, Simone Morgana e Sara Cavallo giorni addietro Angelo Amato ha chiesto che la giunta venga mandata a casa perché sta distruggendo il sogno del Movimento ed ieri sera la nota redattata dal gruppo consigliare Grillino che esprime, si legge, uno giudizio non positivo in ordine all'attuale attività amministrativa della giunta messinese ritenendo le attività troppo volte non coincidente con i principi programmatici del Movimento stesso volendo portare avanti quanto espresso nel programma elettorale 5 Stelle che riteniamo essere la mappa per il cambiamento della città, sottolineano i firmatari e ritenendo il lavoro della giunta non coincidente con l'orientamento programmatico il gruppo prende le distanze dall'azione finora svolta dalla giunta e chiede al sindaco e agli assessori di assumere tempestivamente le opportune azioni volte a realizzare quanto manifestato nel programma elettorale Movimento 5 Stelle parabola significa che il matrimonio è quasi compromesso e sono passati solo 5 mesi nel linguaggio calcistico significa solo una cosa alla prossima partita persa saltano allenatore e compagnia cantante ed anche in politica, se vogliamo, ha l'identico significato Ed il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle sottolinea che non c'è con la giunta comunale condivisione sul programma, le critiche, sottolineano, sono semplicemente costruttive Simone Morgana, ma esattamente cos'è che è contestata l'amministrazione comunale? Cos'è che non vi piace? Allora, due cose fondamentali, il primo è il metodo e questo significa generalizzare la cosa perché per ogni attività che facciamo noi abbiamo un metodo che vogliamo seguire che è quello della condivisione delle idee e dei progetti e questo è mancato in maniera molto forte tant'è che non l'abbiamo percepito solo noi come gruppo consigliare ma l'ha percepito l'intera città dopo aver eseguito l'intera campagna elettorale e nel programma questo discorso di trasparenza e condivisione era stato espresso in maniera molto chiara secondo, la mancanza di un metodo ha portato anche a delle scelte che poi non sono state condivise e l'accordo di programma, secondo noi, è diventato una sorta di manifesto di questa cosa dove andando a individuare una politica industriale che poi ricadeva ad ombrello sull'intera città ha portato ad una precisa direzione della giunta noi abbiamo contestato questa cosa ma l'abbiamo contestato in maniera costruttiva noi abbiamo mandato un documento dove punto per punto andavamo a dire cosa invece coincideva sia con le linee programmatiche sia con quello che poteva essere la nostra idea di sviluppo credo che la risposta attuale dell'amministrazione sia di distacco rispetto a questa nostra proposta perché anziché accogliere e modificare quello che doveva essere è stato mandato alla stampa un po' dovunque fatto girare e si è detto che dovrebbe essere il Consiglio Comunale a decidere su questa cosa è chiaro che a quel punto noi riteniamo che anche su questo piano politico ci sia un distacco sono passati soltanto 5 mesi dall'insedimento della giunta mensinese e il matrimonio sta per compromettersi ma diciamo che ad oggi parrebbe così però noi siamo aperti a un cambiamento di rotta nel senso che noi facciamo delle richieste ben precise al nostro sindaco quindi se lui ci concedesse un confronto e comunque di ritornare a quelle che erano le linee programmatiche della campagna elettorale e quindi del programma Movimento 5 Stelle noi ci siamo e ci saremo sempre voi riconoscete in domenico mensinese il vostro sindaco? ma lui è il sindaco del Movimento 5 Stelle, lui è un eletto come lo siamo noi sicuramente arroccarsi dietro le posizioni di assessori che non sono eletti ma sono nominati e che non sono espressione del Movimento 5 Stelle ma è un dato di fatto, non è un'offesa, attenzione ognuno ha le appartenenze che preferisce noi si riconosciamo in lui il sindaco del Movimento 5 Stelle, è chiaro si è spento all'ospedale di Catania Giacomo Ferrera, storico presidente della associazione CB Vittorio Costa di Gela assieme alla moglie Maria Granvillano sono stati i pionieri della protezione civile l'associazione CB Vittorio Costa ha formato tanti giovani volontari che oggi gestiscono proprie associazioni alle famiglie Ferrera e Granvillano, le condoglianze del Tg10 parcheggio riservato alle utenze del Palazzo di Giustizia una questione discussa durante una conferenza permanente dello scorso 11 novembre una problematica affrontata da numerosi anni dal sindacato Consalunza che nei giorni scorsi aveva inviato al presidente della Corte d'Appello Salvatore Cardinale al procuratore generale della Repubblica Sergio Lari e al sindaco Giovanni Ruvolo una lettera in cui chiedeva di ripristinare uno spazio utile al parcheggio del personale giudiziario richiesta questa presa in atto durante la conferenza così come la proposta di introdurre dei semafori a pulsantiera in prossimità delle strisce pedonali prossime al palazzo come risposte effettive ancora non ne abbiamo avute e ufficiali abbiamo avuto un segnale perché abbiamo saputo che la conferenza permanente che è un organismo che è stabile in tutti i palazzi di giustizia a Caltanissetta tra gli argomenti che hanno trattato giorno 11 hanno previsto anche la discussione sulla nostra lettera che abbiamo inviato ai vertici giudiziari e al sindaco ora la procedura è questa che il presidente della Corte è stato delegato da questa conferenza a iniziare la procedura quindi il presidente della Corte unitamente al procuratore generale che si occupa della sicurezza nelle adiacenze del palazzo di giustizia contatteranno il sindaco, l'amministrazione comunale presumo per cercare di trovare una soluzione noi ci auguriamo che sia la soluzione migliore possibile per soddisfare questa esigenza ormai vendennale perché prima delle stragi purtroppo noi avevamo degli spazi per il parcheggio riservato del personale dopo le stragi purtroppo i motivi di sicurezza hanno impedito questa possibilità ci auguriamo che per il futuro anche questi pericoli vengano completamente abbandonati e quindi il personale giudiziario potrebbe vivere con più tranquillità non solo nei palazzi di giustizia ma abbia la possibilità anche di poter parcheggiare le auto quando si viene al lavoro da tutte le parti della provincia la dignità del reo e del suo inserimento è il titolo del convegno che si svolgerà a Gela venerdì 27 novembre dalle 15.30 presso il palazzo di giustizia e sabato 28 novembre alle 9.30 presso l'aulomagna del liceo classico Eschilo gli incontri sono organizzati dal Lions Club di Gela preseduto dall'avvocato Antonio Gagliano in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Gela e saranno spunti di riflessione sul volume dell'avvocato Giovanni Maria Flick, elogio della dignità tanti gli ospiti che interverranno nelle due giornate i cui lavori saranno preseduti venerdì dalla Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta Salvatore Cardinale e sabato da Don Giuseppe Costa direttore della libreria editrice vaticana venerdì gli ospiti saranno introdotti dal Presidente del Tribunale di Gela Paolo Fiore, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati Ignazio Emmolo e dallo stesso Presidente della Lions Club Antonio Gagliano interverranno il Docente di Diritto Pubblico dell'Università di Palermo Lillo Fiorello l'Avvocato Giacomo Ventura Presidente della Camera Penale di Gela il Procuratore Lucia Lotti il Docente di Diritto Costituzionale Angela Musumeci e l'Autore Avvocato Giovanni Maria Flick subito dopo i saluti del Sindaco domenico messinese e del coordinatore del Lions Club Francesco Freni Terranova relazioneranno il Direttore della Casa Circondariale di Gela Gabriella Di Franco l'Avvocato Salvatore Psaila ed il Dirigente Scolastico Giacchino Pellitteri Confine fra il possibile e l'impossibile si tratta del tema della conferenza promossa dalla Rotary Club Gela presieduto da Gualtiero Cataldo prevista per domenica 22 novembre alle 10.30 nei locali del Cineteatro Antidoto di Macchitella relazionerà Francesco Daina referente distrettuale per l'area Nissena nel corso dell'iniziativa sarà presentato il libro Un angelo con un'ala sola di Giacomo Domenico Bellina sarà presente l'editore Alfio Grasso Una città in ginocchio per la crisi idrica che attanaglia a Caltanissetta da ben 13 giorni la distribuzione dell'acqua prosegue a macchia di leopardo e alcuni quartieri sono a secco da oltre 5 giorni il centralino di Caltacqua continua a suonare a vuoto pochi coloro che riescono a parlare con un operatore per avere risposte sull'erogazione idrica e le turnazioni mentre i cittadini sono costretti a sborsare denaro per rimpinguare i loro serbatoi ormai a secco con le autobotti Un silenzio assordante quello di Caltacqua, Sicilia Acqua e le istituzioni che nisseni non sembrano più tollerare pronti a rimenticare i loro diritti rivolgendosi anche alle autorità competenti Il sindaco Giovanni Ruvolo sempre intanto essersi deciso ad informare della situazione il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta il quale ha convocato nel pomeriggio Sicilia Acqua e Caltacqua lato idrico l'assessore Vagna Contraffatto e la protezione civile oltre al primo cittadino per affrontare la questione e superare immediatamente le criticità Caltacqua intanto assicura che la turnazione idrica rientrerà nella normalità entro questo fine settimana riparato il guasto della condotta Madoni Est nei pressi di Santa Caterina giovedì saranno intanto servite le zone Sant'Elia Balate Paladini Gibilapib è previsto per domani alle 17 nell'ex chiesetta di San Biagio a Gela l'incontro promosso dal comitato provinciale Unicef di Caltanissetta e dal comune di Gela sul tema la convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito del 26esimo anniversario i lavori saranno coordinati da Elia Aliotta portavoce del gruppo volontari Unicef di Gela e partirà domani la prima fase del progetto Elia 8.4 promosso ed organizzato dal centro giovanile Musica e Arte Cesma per il 14esimo anno consecutivo il gruppo giovanile della parrocchia Regina Pacis propone alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Gela e del comprensorio lo studio di un'opera musicale che anticipa la visione dal vivo dello spettacolo quest'anno il musical al centro del progetto Eccatz è arrivato alla sua quarta edizione gli spettacoli si terranno al teatro comunale Eschilo domani e poi i giorni 21, 26, 27 novembre alle 10 e 30 già 1200 circa le presenze previste nel corso delle quattro repliche da quest'anno il Cesma attraverso i suoi spettacoli rivolti alle scuole sosterrà il progetto della piccola casa della divina misericordia la realtà sorta a Gela da qualche anno che ha come obiettivo tra gli altri il sostentamento di una mensa quotidiana nei locali dell'ex orfanotrofio Regina Margherita ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci in seconda parte del telegiornale sarà presentato domani alle 16.30 a Gela presso la libreria di Felicia Randazzo in via Parioli il libro dello chef stellato Pino Cuttaia per le scale di Sicilia l'evento è organizzato dalla delegazione di Gela dell'Accademia Italiana della Cucina preseduta da Concetta Battaglia Cuttaia converserà con Francesco Pira docente di comunicazione all'Università di Messina che coordina l'evento interverranno Mario Ursino ed Ugo Serra rispettivamente vicepresidente e coordinatore territoriale della Sicilia orientale dell'Accademia Italiana della Cucina e sarà presentato sabato 21 novembre alle 18.30 nei locali Mondadori Store di via Marconi 25 a Gela il libro di Domenico Veneziano una sofisticata e meravigliosa apparecchiatura saranno presenti lo stesso autore e Daniela Di Marco Naturopata e adesso la nostra consuetà rubrica in breve prenderà il via il 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo spettacolo 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30 si terrà sabato 21 novembre alle 20 e 30 al Teatro Comunale Eschilo di Gela il musical The Wits di Charlie Small che sarà portato in scena dal Centro Giovanile Musica e Arte Cesma il biglietto di ingresso sarà fornito a chi porterà nella chiesa Regina Pacis o nella piccola Casa della Misericordia dal 15 al 21 novembre la spesa per chi è povero Un unico vero potere servire gli altri nella solidarietà è il tema del nuovo anno sociale 2015-2016 dell'Associazione Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo presieduta da Andrea Cassisi l'apertura ufficiale si terrà sabato 21 novembre alle 19 con una celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Rosario Gisana presso la parrocchia San Rocco alla Santa Messa presenzieranno tra gli altri autorità civili e religiose e gli iscritti e i soci del centro culturale Il Soroptimist Club di Gela in collaborazione con l'Istituto Culturale di Sicilia per la Cinematografia Onlus organizza in occasione dei 120 anni del cinematografo un seminario di storia del film tenuto dal regista Gianni Virgadaul al fine di promuovere la cultura e di offrire alla città un corso che può aggiovare a chi intende intraprendere o approfondire studi che riguardano il cinema e in genere la comunicazione il corso si svolgerà a Gela dal 23 al 27 novembre dalle 16.30 alle 18.30 presso il museo del cinema che sorge nei locali del palazzo Pignatelli Al via la 81esima stagione concertistica gelese con la musica classica e lirica organizzata dalla associazione Amici della Musica Navarra diretta dal maestro Crocevisto Lagona il concerto inaugurale della stagione si terrà in occasione della festa di Santa Cecilia appuntamento domenica 22 novembre alle 19 presso palazzo Pignatelli con il mezzo soprano Giuliana Consiglio e Angelo Zarbo al pianoforte e adesso parliamo di sport calcio il gelaguanta la semifinale di Coppa Italia vincendo ai rigori con l'Alcamo alla fine dei tempi regolamentari il risultato era di 1 a 0 per i padroni di casa identico risultato conseguito nella gara d'andata dai bianco azzurri e domenica derby in campionato con l'atletico Campofranco sentiamo il tecnico Totò Brucculeri ieri è stata una partita giocata a bisaperto tutte e due le squadre in certi frangenti potevano andare in vantaggio loro potevano andare in vantaggio noi poi è chiaro abbiamo preso golle sapevamo benissimo che non c'erano i supplementari ma c'erano i rigori abbiamo tenuto botta fino alla fine e poi siamo andati alla lotta dei calci di rigore domenica c'è un derby all'orizzonte si gioca contro l'atletico Campofranco ed è chiaro che il Gela dopo il pareggio rimediato contro la Libertà Saracalmuto deve fare necessariamente punti non è giusto insomma coppevolizzare questi ragazzi che stanno facendo un grande lavoro io sono molto fiducioso perché stiamo intraprendendo una strada importante ritengo che è una squadra che sta facendo un grande lavoro una squadra che segue una squadra che ha ricominciato a fare un lavoro che non c'era prima e che di conseguenza cioè dico in questo momento stiamo attraversando un momento un pochettino particolare però è chiaro che io posso lanciare un appello ai tifosi soprattutto di avere fiducia di stare più tranquilli insomma abbiamo avuto qualche battuta del resto perché passo falso però il campionato ancora è nello stato embrionale non possiamo dare nessuna abbiamo due progetti campionato e coppa dove stiamo andando avanti considerare che non è facile spendere energie e soprattutto fisica e mentale giocare domenica poi mercoledì e domenica già significa spiegare tanto però io sinceramente ho nel mio DNA la positività di portare avanti questo progetto importante credo in questo progetto voglio dire alla gente che deve stare in serena che deve avere fiducia e sono convinto che poi alla fine la strada la conosco dove dobbiamo arrivare i risultati nelle ultime tre partite al Gela ci rivediamo in tema di vittoria non sono arrivati sì ma non è che Gela può vincere tutte le partite non esiste nel mondo del campo non può pareggiare con l'ultima in classifica ma dalle volte si può anche perdere con l'ultima in classifica io penso che il calcio è un gioco non è una forza fisica è un gioco per cui non è che si incontrano due pugili che è uno più bravo dell'altro abbiamo avuto delle battute d'arresto dobbiamo stiamo cercando di metabolizzare tantissime cose cioè siamo diciamo in una fase di allestimento dell'organico dobbiamo andare diciamo sul mercato di riparazione abbiamo tante cose che bollano in pendola però è giusto che non possiamo essere in testa la classifica in questo momento per portare il Gela in 3D ma il Gela ci arriverà in 3D o ci arriva tramite una strada o un'altra strada io penso che non sono un allenatore che conosco solo una strada conosco i bivi conosco gli incroci che sono benissimo come si deve andare avanti e con lo sport ed in particolar modo con il calcio noi chiudiamo le informazioni di oggi ricordandovi ancora una volta che notizie e servizi sono consultabili attraverso il nostro portale tg10.it vi ricordo sempre che il tale video della nostra emittente è quotidianamente aggiornato abbiamo concluso grazie e arrivederci grazie a tutti ieri grazie a tutti ieri